Nel suo intervento lei ha detto non solo feste. E lo ripeto e cerco anche di rimarcarlo, le proloco non sono quelle che come comunemente vengono definite gli organizzatori delle feste. Le proloco sono quelle organizzazioni presenti 365 giorni dell'arco dell'anno su un territorio e quelle che si occupano di tutte quelle esigenze dove spesso la pubblica amministrazione o gli enti dedicati a tale scopo non riescono, non per cattiva volontà ma per effettive ed oggettive difficoltà, a raggiungere tali esigenze. Ma veniamo alla tre giorni di Corciano. Qual è il vostro programma? Noi partiremo venerdì sera con la presentazione dei nostri menù, di piccoli assaggi di quei menù, di quelle attività gastronomiche, specialità gastronomiche che saranno poi, troveranno i nostri clienti presenti durante le sagre nel corso dell'estate. Avremo tutte le sere uno spettacolo gratuito partendo dal teatro, partendo dalle burattini, sfilate in costume, con menestrelli, con tamburini. Avremo la possibilità di assistere per i bambini e non solo per i bambini e anche a un bello spettacolo di burattini in piazza. Tutto questo gratuito e per mettere una ciligina su questa torta, se così possiamo chiamarla, arriveremo al sabato mattina quando un convegno vorremmo parlare del ruolo futuro, quello che immaginiamo possa essere il futuro ruolo delle Proloco nei propri territori. La solidarietà attiva.